Giuseppe Garibaldi ha un desiderio. Dopo il grande fratello vorrei diventare presentatore Garibaldi confida a Beatrice le sue aspirazioni post-GF. Giuseppe Garibaldi non ha ancora messo in tasca il titolo di finalista del grande fratello 2024. Ma per i fan è già un vincitore Ultimamente ha attirato l'attenzione per due motivi. La fine della storia con Anita Olivieri. Ora con Alessio Falsone, e l'avvicinamento a Beatrice Luzzi. Mentre l'edizione 2024 del grande fratello si avvicina al termine. Giuseppe ha scelto di focalizzarsi su di sé. Meditando sulle prospettive che il reality show potrebbe aprirgli una volta conclusa l'esperienza. Ed è proprio riflettendo sul suo avvenire che Giuseppe ha condiviso il suo grande progetto per il futuro nel mondo della televisione. Quello di affermarsi come conduttore. Il sogno di Giuseppe. Striscia la notizia. In una conversazione con Beatrice Luzzi. Giuseppe Garibaldi ha esternato la sua ambizione di lavorare in televisione. Con l'occhio puntato su una trasmissione ben precisa. Mi entusiasmerebbe presentare un programma. Soprattutto. Striscia la notizia è il mio preferito. Non ti ho mai detto che miro alto? Mentre attendiamo di scoprire se Giuseppe raggiungerà la finale del grande fratello 2024. Lui guarda già avanti. Immaginando una carriera radiosa oltre i confini della famosa casa di Cinecittà. Forse Striscia la notizia coglierà la palla al balzo. Rispondendo con la sua tipica ironia alle ambizioni espresse da Giuseppe. Dopotutto, non sono pochi coloro che, usciti dal GF, si sono fatti strada nel settore dell'intrattenimento.